Ma ha lasciato! Mi ha scritto, guarda non credo nei rapporti a distanza, voglio una pausa! Ma quando è successo, scusami, ma poi siete riusciti a sentirvi, l'hai chiamato? Ma ha bloccato dappertutto, ovunque! Dai, stai tranquilla, prendi il mio. Io ho Eli Mobile, ho tantissimi minuti illimitati e ho tanti tanti giga, quindi puoi fare anche una videocall. Squilla! Come stai? Come c***o ti permetti, brutto c***o? Ma vai a fare c***o, dimmi dove c***o sei! Funscare! 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 Funscare